Ciao a tutti, sono qui con una nuova serie di video che vorrei cominciare e appunto in questi video mi piacerebbe parlare dei prodotti irrinunciabili magari sentito così vi potrà sembrare simile al video dei preferiti però almeno per come lo intendo io il video dei preferiti lo ho sempre fatto, suddiviso per stagione e quindi magari quei prodotti sono stati i preferiti di quella determinata stagione per quel determinato periodo dell'anno invece il video degli irrinunciabili è un video in cui vi vorrei mostrare tutti i prodotti a cui non posso più rinunciare ovvero quelli unici che ho deciso poi di riacquistare durante il tempo per più volte e quindi appunto sono diventati quelli a cui non posso più rinunciare in ognuno di questi video mi piacerebbe ci fossero tre prodotti di tre tipologie diverse sia per non far diventare il video troppo lungo e noioso sia perché così almeno chi riguarda già sa cosa aspettarsi sa che parlerò di questi tre prodotti e sarà sempre così non ci saranno video in cui parlerò di 20 prodotti video in cui invece parlerò solo di due prodotti ma saranno bene o male standard allora dopo aver fatto questa breve introduzione avervi spiegato più o meno di cosa parleranno questi video prima di tutto invito tutte le ragazze che fanno video su youtube a partecipare se vi fa piacere e quindi magari mi potete lasciare il vostro video qui e lo leghiamo sotto al mio e anche chi non fa video se vi fa piacere potete lasciarmi giù nell'info box nei messaggi quali sono i vostri prodotti preferiti a cui davvero non potete più rinunciare allora voglio cominciare dai miei tre prodotti ovviamente il primo in assoluto non poteva che essere la mia spuma dell'intesa questa è la spuma che utilizzo per appunto modellare i capelli ricci e la adoro cioè praticamente è l'unica spuma che riesce ad accontentarmi voglio premettere che davvero in tanti anni ne ho provate tantissime di spume proprio per la curiosità di vedere con quale mi potessi trovare meglio le ho provate della Pantene, della Garnier di tutte le marche e nessuno mai mi è piaciuto quanto questa e devo dire anche per fortuna perché comunque questa spuma costa circa 1,60 euro ovviamente dipende da dove vivete io la pagavo 1,60 euro giù in Campania qui invece al nord la trovo circa 1,90 euro però fortunatamente la confezione è da 300 ml quindi è bella grande e il prezzo è molto conveniente quindi meno male adesso voglio passare al secondo prodotto il secondo prodotto o meglio quello che resta del secondo prodotto devo assolutamente riacquistarla questa qui è la saponetta impassata con olio di cocco al burro di karité sicuramente se qualcuna di voi che sta guardando questo video e mi segue già da tempo e ha visto il video sulla routine della pelle che è un video un po' vecchiotto l'avrà vista in quel video questa saponetta è della marca me la sono segnata perché non c'è più scritto qui è della marca Naturpharma e la trovate nelle erboristerie o comunque sul loro sito la saponetta costa 2,70 euro adesso va bene, mi è rimasta questa sogliola di saponetta però è una saponetta normale rettangolare e ha un buon profumo io la trovo ottima perché effettivamente il burro di karité va a rendire molto la pelle quindi nel momento in cui vi può capitare che escano fuori dei rossori dei brufoletti utilizzando questa qui periodicamente va proprio a lenire a disinfiammare la trovo davvero davvero ottima avendo una pelle io da normale a secca in alcuni punti non la utilizzo tutti i giorni però la utilizzo quando ne sento l'esigenza e mi piace molto e continuo a riacquistarla nonostante siano passati un bel po' di anni da quando l'ho provata per la prima volta oltretutto l'ho anche consigliata a diverse amiche ed è piaciuta molto anche a loro che l'hanno provata quindi anche per diverse tipologie di pelle ultimo prodotto vi voglio parlare di un gloss di bottega verde è questo qua ve ne avevo parlato su facebook vi avevo detto che avevo fatto un ordine se non sbaglio poco prima di Natale e in questo ordine c'era anche questo gloss questo gloss l'avevo provato qualche annetto fa ce l'aveva mia cognata però non sono riuscita più a trovarlo nei negozi non ce l'avevano allora il gloss non so se si vede purtroppo la luce è bruttina è quello che indosso su ora forse sembra solo un po' trasparente però ha anche una venatura leggermente rosata però così non credo che si nota questo gloss si chiama labbra shock gloss volumizzante istantaneo è uno di quelli con il peperoncino all'interno che pizzica e vi dà quella sensazione di far sembrare le labbra più carnose io non l'ho preso sinceramente per questo però l'ho preso perché mi piace davvero tanto la perlescenza che ha all'interno questo effetto glitterato mi piace sia utilizzarlo assoluto che utilizzarlo sopra altri rossetti e poi questo effetto che pizzica è anche un po' piacevole soprattutto quando fa freddo e per di più appena applicato quando questo effetto è più intenso le labbra tendono anche ad essere a colorirsi naturalmente da sole e non è per niente spiacevole questo effetto attualmente però vi dico che comunque questo qui non riuscirete a trovarlo nei negozi bottega verde e io sono riuscita a trovarlo solo nel loro outlet quindi ne hanno ancora qualche pezzo probabilmente disponibile solo nell'outlet purtroppo e se non sbaglio l'ho pagato anche tipo metà prezzo quindi circa sugli 8 euro 8,50 euro comunque mi piaceva tantissimo e quindi non potevo ritrovarlo assolutamente e nulla questi sono i tre prodotti di questo mio primo video di questa prima puntata dei irrinunciabili spero che per voi sia interessante vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video